Qua ci sono almeno così solo a occhio dieci o quindici varietà di erba diversa, di lì praticamente c'è solo gramigna. Se prendi una manciata di là è fungo. Comunque è interessante vedere anche il colore. Adesso ve la posso di qua. C'è una sfissia totale, vedi com'è tutto compatto. Qui sa di sapone della lavatrice. Life and death. Tu sei un figlio di gignaiolo? Sì. Anche tu farai vino? Beh. Facciamo vino in biologico, in biodinamica, assenza sulforosa, con i lieviti indigeni. La nostra forza è avere la sensibilità di rispettare il più possibile quello che la natura ci dà. Se dunco ravi il vino, se lo cambiavi, passava la doc, ma non era più espressione di quel terroire in quell'annata. Il gignolo moderno è sempre anche perfetto. Quando mangiamo un cibo che è uguale dalla Nigeria all'Islanda e poi dopo andiamo in farmacia e ci compriamo 70 kg di antidepressivi. Mi piace inizia la terra a parlare. Noi facciamo dei vini che guardano al futuro. Perché poi è la prima nutrimento e la gioia di vivere. che cos'è questo vino giallo? Oh signor, sarà andata male. Noi facciamo.